Presso la sede del Comando Compagnia di Battipaglia è stata inaugurata una sede dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle vittime di violenza di genere in condizione di particolare vulnerabilità. La sala è stata progettata e realizzata dalla sezione FIDAPA di Battipaglia, che ha operato in sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, con il contributo del Comune di Battipaglia e della Direzione Nazionale FIDAPA. La sala è stata arredata ed allestita in modo da rappresentare un ambiente diverso, più accogliente e meno formale rispetto agli altri uffici del Comando della Compagnia, al fine di rendere il rapporto tra la vittima e l'operatore di polizia meno traumatico, così da evitare la vittimizzazione secondaria. Una particolare attenzione è stata dedicata anche ai minori, soprattutto in età preadolescenziale, che spesso accompagnano giovani madri vittime di violenza domestica e che non poche volte sono a loro volta le principali vittime, anche di bullismo. A loro è stato riservato uno spazio gioco. La sala inoltre è stata dotata di moderni sistemi di registrazione audio-video per una totale fruibilità in ottica giudiziaria. La sala inaugurata si unisce alle altre due presenti in provincia di Salerno, presso le sedi dell'Arma dei Carabinieri, a dimostrazione della grande attenzione e della istituzione verso le attività di contrasto alla violenza contro le fasce deboli della società, che passa necessariamente attraverso l'accoglienza della vittima e la capacità di ascolto empatico, doti e caratteristiche tipiche da sempre dei carabinieri.